benvenuti sul mio canale in questo nuovo video vi parlo di un personaggio sulla fiction del capo dei capi che ha avuto un ruolo cruciale dall'inizio alla fine del film prima di partire con il video ti invito ad iscriverti al canale per aiutarmi a crescere partiamo con il video la figura della fiction nel capo dei capi dove troviamo schirò è stato costruito su un personaggio realmente esistito il poliziotto viaggio merita fu viaggio merita proprio il 15 dicembre del 1963 a riconoscere ad un posto del blocco salvatore reina e farlo catturare in quanto gialla di tante la gente lo ricorda come un poliziotto molto abile e con un cuore d'oro negli anni 60 fu con il commissario angelo mangano a dare la caccia e a decimare le cosche corlionesi già nel 44 dal giovane guardia di pubblica sicurezza in servizio a lecce durante l'occupazione alleata assistette insieme ad un suo collega all'assassino di una donna che fu colpiti da alcuni colpi di pistola sparategli dal marito l'uomo per fuggire cominciò a sparare contro di lui e il suo collega melita il collega disarmati lo inseguirono evitando i colpi fino a che l'assassino arriva a baricarsi in una casa sul posto arrivarono anche i soldati americani che circondarono l'abitazione ma non riuscivano a catturare l'uomo che continuava a sparare a sbloccare la situazione fu biaggio melita dal buco della porta d'ingresso che serviva ai gatti per entrare notò il piede dell'assassino così prese una scova che era appesa al muro e colpì con forza il piede dell'uomo che gatte a terra per il dolore gli americani quindi irruppero nella casa e l'arrestarono senza difficoltà il poliziotto siciliano fu festeggiato dai militari americani tanto che lo vollero in servizio con loro e lo portarono a napoli come segno della loro gratitudine gli regalarono una colte calibro 32 in acciaio con calcio in metra perla un'arma dalla quale fino al termine della sua carriera in polizia non se ne separerà mai diventando anche un tiratore preciso ed esperto a napoli si occupò della lotta al contrabbando e alla camorna finita l'occupazione alleata melita tornò tra le file della polizia di stato italiana e fu trasferita a palermo dove un costruttore legato alla mafia corlonese gli propose l'acquisto di un appartamento molto sotto costo quasi regalato la risposta di biaggio melita che abitava in una casa in affitto fu grazie ma la casa di proprietà non mi interessa resistendo così anche a tentativi di corruzione a corleone ci arrivò nel 1949 subito dopo l'assassino per mano mafiosa in poliziotto nel 1958 quando a corleone luciano rigio sui picciotti riina provenzano e bagarella assassinano a colpi di mitra thompson il capo mafia michele navarra la situazione dell'ordine pubblico precipitò i morti ammazzati per le strade di corleone e le vittime della luvara bianca non si contavano più corleone divenne teatro di terrore fu allora che a dirigere il commissariato di polizia di corleone arrivò angelo mangano che da genoa fu trasferito a corleone il 15 novembre 1963 e non nel 1958 come si vede nella fiction arrivò per contrastare e arrestare il boss in ascesa luciano ligio lucianetto mangano legò subito con l'appuntato biaggio melita profondo conoscitore del paese dove si era costruito una serie di amicizie legami impensabili per l'epoca da parte di un poliziotto i rapporti di servizio di melita finivano e cominciavano sempre con la frase scorribbande e ad azioni delittuose messe in atto da criminali mafiosi contro la pacifica popolazione di corleone era il suo modo per dire che la stragrande maggioranza dei corlonesi era composta da cittadini onesti spesso vittime dell'arroganza e della violenza dei mafiosi in quei primi mesi il commissario mangano creò una squadra investigativa di qualità composta da biaggio melita e tindale a cordino e da pochi altri poliziotte selezionati comincia a corleone l'epoca delle eredate e dell'intensificarsi della caccia a luciano ligio e alla sua banda la notte del 15 dicembre del 1963 alla galleria aldisio sopra corleone sulla strada per andare a pizzi era stato fatto un posto di blocco che serviva a sorprendere una banda di rapinatori che nei quattro mesi prima aveva messo a segno tre rapine al banco di sicilia di palermo al racconto dei due poliziotti all'improvviso melita e a cordino sentirono dentro la galleria un grido poi una sventagliata di mitra una macchina una fiat 1100 stava percorrendo l'edromarcia tutta la galleria poi un'ombra verso la campagna un uomo piccolo e robusto i due poliziotti lo rincorsero e lo arrestarono lo portarono in commissariato e lo rinchiusero in una cella nella tasca della giacca quest'uomo aveva una carta identità intestata a giovanni grande coltivatore di san giuseppe iato nella stanza degli interrogatori il commissario mangano lanciava urla contro quel contadino che non apriva bocca il brigadiere il viaggio melita verso le 4 del mattino apri la cella e gli disse lo so vi sei tu sei salvatore rina lo aveva riconosciuto era latitante da qualche anno e all'alba del 16 dicembre del 1963 quell'uomo confessò di essere lui era rina salvatore fu giovanni ad accorleone il 16 novembre 1930 fu l'arresto di quello che sarebbe diventato il capo dei capi raccontarono cosa disse totorina quel giorno disse queste parole voi dello stato ci mangiate soltanto di noi ci fate le tragedie ci fate arrestare ci mandate in galera e ci mandate al confino meglio morto che sbirro totorina lo portarono al luciardone la notizia della sua cattura fu riportata nelle pagine dei quotidiani palermitani soltanto sei giorni dopo la sera del 14 maggio 1964 grazie alle indagini del gruppo si arrivò al nascondiglio del ricercato ligio la casa di riovolughina sorisi la fidanzata di placido rizzotto il sindacalista ucciso dallo stesso ligio nel 1948 vogliamo ricordare così un corlionese che riposa nel cimitero cittadino nella tomba di famiglia che ormai si è radicata in questo territorio la figura di un poliziotto che ha donato la sua vita per gli altri grazie di avermi seguito fino alla fine del video se ti è piaciuto lascia un bel like iscriviti al canale per aiutarmi a crescere al prossimo video